Salute a zia Attilia in Germania, è qua, ma non fu soldato, ma non fu soldato, ecco compadre, qua sto compadre, ecco lei, questa è la pizze, zio Gian Battista, toglia, qua, Michele che sta facendo la fotografia, sta facendo lui di purezza, lui c'è una coppia di va, ecco qua, zio Gianni, Donatella, quella tua Santa Crescima, ecco qua, c'è Crescimato Giuseppe Marotta, ecco qua, con la mamma Maria, sta bene, saluta Germania qua, ecco Donatella che saluta Germania, lui c'è una coppia di va, il compadre, la mamma Maria, Giuseppe, Salute in Germania, ciao, Giulia che saluta in Germania, saluta in Germania, ah, bravo, ok, a posto.